A Grotte, nell'ambito della manifestazione Miss Grotte 2023, si è esibito il giovanissimo cantante aggrigentino Nicolas Buono. Da un anno è parte dell'Accademia Palladium di Lia Minio. Domani sera, venerdì, si esibirà a Bivona e sabato sera al Caos ad Agrigento. Ecco la sua performance a Grotte. E questo riff vuol dire che il mio saluto è Gegeccia. Forse voi pensate che questo Gegeccia voglia dire Gegeccia ed invece questo riff vuol dire voglio bene a te. E così, guardiamolo fra noi, con Gegeccia, tu mi puoi dire quello che vuoi, ma che dire non sai. Abbiamo un riff che fa così, io dico a te, tu dici a me. Facciamo insieme il Gegeccia.